Ma dove possono essere finite le mie nuove aiutanti cuoche? Eccoci qui! E così sareste voi due le mie nuove aiutanti? Certamente! Noi sappiamo cucinare di tutto! Va bene, Gwendalina, allora tu prendimi dei semi di anice, per favore. Chissà se siete davvero brave come dite, comunque, dove avete lavorato come cuoche? Noi abbiamo cucinato per tutti a bordo di parecchie navi! Ah sì? Sulle navi? Esatto, sulle navi dei pirati! E adesso come usciamo da qui? Non devi preoccuparti, sono tutti impegnati a prepararsi per la cena! Una cena che non arriverà mai! Il nostro successo è così scontato che l'ho già detto al capo, nessuno può resistere al solletico. La interrogheremo e scopriremo quali sono i segreti più taciuti di Palazzo Medici. Non parlerò mai e poi mai! Quando la piuma farà il suo dovere, non ci saranno più segreti taciuti! Ha 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 ha! Ha 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 ha! No, no, no!